di questa serie di finale del campionato è stata determinante in tutte e tre le partite e lei che ha fatto il ritmo, che ha deciso come doveva giocare la squadra, ha messo anche i punti oltre agli assist e a Cattivo Ambe nel momento in cui festeggia il primo Scudetto Moschio ma il secondo italiano chiediamo anche il primo pensiero che ha in mente. Sono molto contenta perché sono venuto qui per quello e tutto è passato come un sogno e vincere questo tipo di gara non ha preso e per me vedo tutti quanti e per me sono molto contenta. Diciamo la verità, tu hai avuto un solo momento difficile nella stagione quando nell'intervista ai tifosi hai detto il momento più bello della mia carriera è lo Scudetto vinto con Taranto però hai pareggiato subito la situazione. è normale per me, era la prima volta e la prima volta è sempre importante ma adesso abbiamo fatto una stagione perfetta e adesso questo Scudetto è qua. E adesso è Europa perché credo che Cestaro voglia qualcosa di più in Euroliga. Eh sì, sta stagione abbiamo fatto un po' fatica in Euroliga e spero che per l'anno prossimo possiamo crescere di più in questa Euroliga. La testa è quella che conta nelle tue scelte quando devi gestire le partite ma anche in generale perché un conto è avere le giocatrici forti, un conto è dimostrare con autorità sul campo. Sì sì sì, mio ruolo è questo, sono playmaker e so che devo gestire la squadra e sono un giocatrice molto calma e penso che così ho aiuto molto mia squadra perché eravamo un po' come si dice stressato all'inizio ma tutto hanno giocato bene e dai va bene sono molto potente. Parla piano perché c'è l'asi qui dietro, l'importanza è l'allenatore per questo gruppo. Sì sì sì, ma va bene, sono contenta per lui anche, primo, eh? Beh dai, va bene.